L'effetto combinato delle varianti Delta e Omicron fa aumentare in modo esponenziale i contagi anche in Abruzzo. In particolare la variante sudafricana, che è il più contagiosa di quella indiana, in dieci giorni avrebbe raggiunto già la metà sul totale dei positivi. L'area geografica in cui il 50% dei casi è dovuto alla variante Omicron è la provincia di Chieti, come conferma il genetista Liborlio Stupia, che è preoccupato per l'aumento dei casi che potrebbe mettere a rischio anche il personale sanitario. Il direttore del laboratorio di genetica molecolare Test Covid-19 dell'Università d'Annunzio, dove vengono processati direttamente i tamponi molecolari delle province di Chieti e Pescara e sequenziati geneticamente alcuni a campione, afferma che ci sono gruppi di tamponi in cui è presente solo Omicron, che sta avanzando molto rapidamente. Omicron si sta diffondendo moltissimo e abbiamo visto tra l'altro sia noi che ZS che quelle che sono sospette Omicron poi le sono realmente, quindi possiamo parlare in questo momento che ieri il 50% dei positivi che abbiamo trovato erano Omicron, quindi si è diffusa a una velocità mai vista anche rispetto a quello che fecero la variante inglese e la variante Delta. Si parla di un'area più colpita rispetto ad altre, quella della provincia di Chieti, in realtà non credo che sia più colpita, in realtà è perché noi nelle tecniche di analisi quotidiana utilizziamo un sistema che ci permette subito di vedere se è una sospetta Omicron e quindi abbiamo numeri molto maggiori, ma secondo me è diffusa allo stesso modo in tutto Abruzzo, non credo che sia un problema soprattutto di Chieti. Cosa preoccupa di più in Abruzzo? L'Omicron, adesso ci sono voci sempre più forti che sia relativamente più benigna rispetto alle altre, però quello che preoccupa è che con questo tasso di diffusione prima o poi incomincieremo ad avere un tale numero di persone infette, prima di tutto che non riusciremo a fare il tracciamento di tutti. Secondo che secondo me potremmo incominciare ad avere dei problemi laddove ci siano dei focolai nei reparti ospedalieri, tra gli operatori sanitari, negli stessi laboratori che fanno tamponi, cioè l'ipotesi che possano dover andare in quarantena gli operatori sanitari, quindi assolutamente non preoccupa tanto la letalità di questa forma quanto la possibilità che buona parte della popolazione non possa lavorare. Continuano gli esperti a ripeterlo quotidianamente che i vaccini restano insieme alla Profilassi le armi più efficaci per combattere il virus. Ma cosa possiamo dire a chi ci sta seguendo? I vaccini sicuramente ci hanno salvato letteralmente da un'ecatombe, perché se avessimo avuto la delta senza vaccini morti non li avremmo più contati. Però c'è un dato, quello tedesco, che è molto chiaro. Fatto il lockdown ai non vaccinati, improvvisamente è crollato il numero dei contagiati. Quindi è vero che anche i vaccinati possono infettarsi e trasmettere, ma sicuramente in maniera molto minore. Il dato tedesco è chiarissimo. Quindi i vaccini rimangono senza dubbio il presidio più robusto per combattere la pandemia.